bene grazie a tutti per essere arrivati vedrete che abbiamo in questo momento equinoziale perché presto arriva la primavera giocheremo con le luci perché fra poco eh quando calerà la luce e accenderemo delle luci però per non rovinare il collegamento video dobbiamo dosare eh dobbiamo dosare la luce io sono Andrea Vento sono qui nella duplice eh veste di amministratore delegato della della Vento e Associati che è una società di consulenza su tanti settori tra cui mi piace citare il risk assessment e l'analisi di rischio che un po' da qualche anno da quando c'è stato il fenomeno pandemico è diventata materia eh importante anche per l'economia anche per i CEO prima era materia per pochi intimi eh prevalentemente del settore pubblico adesso il risk assessment e il risk analysis sono diventati fenomeno fondamentale anche per quelli che noi gergalmente chiamiamo i C level cioè i CEO e i loro pari all'interno dei eh dei consigli di amministrazione e dei vertici aziendali sono anche l'amministratore delegato di iWeek un'altra nostra eh società che è l'acronimo che ehm ehm si riferisce a Intelligence Week arrivata alla quinta edizione quindici aprile con una locandina che poi chiederò alla fine eh di eh alla fine di questa serata di lavoro di proiettarvi il quindici aprile facciamo un evento appunto sul nucleare all'università di eh Pavia presso il LENA al laboratorio di energia nucleare applicata. Eh oggi eh considero questa presentazione di un libro operazione satellite eh dell'amico dell'amico ritrovato Frediano Finucci eh i conflitti invisibili dalla guerra fredda all'Ucraina poi avremo modo di ascoltare eh Frediano in compagnia di quattro relatori d'eccezione abbiamo con noi l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo eh già tante cose ma soprattutto già segretario generale della Noato e eh presidente adesso del Nato College Foundation eh che ci farà una introduzione oggi su quella che è è un po' strano e forse non è appropriata ma diciamo la geostrategia perché geo si applica come qua abbiamo il co-presidente dei salotti dell'intelligence il professor Cella si applica ad una visione continentale però in questo caso lo spazio che è una 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 eh sicuramente quarta dimensione non si può applicare il concetto di geostrategia o di geopolitica però ascolteremo sicuramente se non altro la contrapposizione delle potenze nello spazio per quanto riguarda il dominio delle orbite basse e alte e poi evidentemente quello che riguarda oltre l'orbita eh terrestre e eh la preghiera di spegnere i cellulari eh poi abbiamo con noi la professoressa Simonetta di Pippo professor of practice of space economy direttrice del eh del space se eh lab della SDA Bocconi eh ed è devo dire con grande soddisfazione da Bocconiano che osservo che l'università eh Bocconi in realtà la scuola di direzione aziendale abbia deciso di esplorare lo spazio eh questa è una grande novità e vuol dire che stiamo guardando al futuro con 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 attenzione non voglio spoilerare di che cosa ci parlerà la professoressa di Pippo però diciamo una visione positiva anche del coinvolgimento dei privati in questa new space economy e ancora abbiamo con noi Novitsa Merdovich Vianello caro amico ma soprattutto un uomo di finanza eh CEO e general partner di eh vari fondi ad valio ma soprattutto della sua nuova eh impresa del dello Star Tech Venture che è dedicato ad aiutare finanziariamente eh startup e scale up interessate a alla dimensione eh eh defense difesa ma anche alla dimensione aerospaziale e ancora abbiamo in collegamento da Dubai ho dimenticato di dire che la professoressa di di Pippo è in collegamento invece da Abu Dhabi dagli Emirati Arabi Uniti invece eh Marco Langbroek in collegamento dall'Olanda eh Marco Langbroek è un professionista olandese ed è un cacciatore di satelliti spia un mestiere diciamo interessante curioso ascolteremo da lui che cos'è eh il suo mestiere che eh si riassume sostanzialmente nella eh space eh eh scusate eh la space situation awareness eh tema molto interessante di cui parleremo quindi grazie a tutti per essere qui grazie innanzitutto all'autore grazie a tutti i ehm relatori eh prima di partire ehm eh ancora una volta eh vi devo dire una cosa partiamo con un nuovo ciclo oltre all'intelligence week i salotti dell'intelligence e questa è il numero zero dei salotti dell'intelligence poi alla fine quando riprenderò la parola vi dirò qual è la il prossimo il prossimo evento in tal senso a questo punto chiedo all'ambasciatore Alessandro Minuto Rizio di darci diciamo un quadro direi generale eh di insieme eh forte delle sue esperienze nato ma anche e soprattutto la European Space Agency l'ESA eh a Parigi e che cosa sta succedendo nello spazio. Bene posso parlare di sì credo di sì. Eh grazie buonasera e grazie per l'invito eh non è la prima volta che mi confronto con il libro che freddiano fiducia. Siamo dieci minuti scusa se sei un po' ma no assolutamente anzi se prima ti prego di farmi un segnare perché quando uno parla abbraccio qualche volta più quanto sbagliare quindi grazie eh e come dire e quindi è una è una seconda terza volta che vengo a parlarne o perlomeno a sentirlo perché eh mi interessa moltissimo il suo approccio e dico perché questo perché io mi sono occupato molto di spazio all'ESA per sei anni sono stato anche nel consiglio di amministrazione dell'Adi e non voglio entrare nella mia carriera ma insomma quello che mi ha sempre colpito voglio dire nello spazio è la sua novità cioè lo trovo appassionante come settore perché è un settore in cui una persona è successo a me ma è successo anche a lui può come dire pensare di avere un ruolo no? Può cambiare qualcosa ci può essere un progetto che si può fare che prima non si faceva. Questo è molto raro nell'attività umana molto è molto difficile e ed anche una dimensione come dire che noi il largo pubblico ignora normalmente mentre invece lo spazio ha nelle nostre vita quotidiana una importanza enorme quindi lui come dire secondo me è importante perché he's breaking the spell cioè rompe un po' il 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 vetro per aprire per aprire questo settore allora perché dico che è anche innovativo il suo libro? perché in realtà lo spazio non parte né nel militare né nel privato lo spazio parte nella scienza soprattutto l'agenzia europea ha l'unico programma obbligatorio è quello scientifico io snobbavo da giovane ma adesso invece trovo che è molto importante e poi una serie di cose che ci interessano l'osservazione della terra eh la meteorologia eh i lanciatori una serie di cose come dire che noi usiamo tutti i giorni io ricordo quando stavo all'ESA perché avevo sempre degli esempi concreti poi sono aiutare e si diceva ma stiamo trovando i satelliti eh i quali aiuteranno non so i proprietari con un gruppo di camion a identificare quei camion in giro per l'Europa ma io dicevo ma che stracca che cavolata ma che ero bene ma come si fa no? e poi magari chissà il camionista sbaglia a strada ed è quello che noi tutti i giorni facciamo queste cose diventano realtà ma sembrano dei sogni eh quando si è lanciata la stazione spaziale internazionale ed io ho partecipato molto a quel negoziato nessuno avrebbe mai immaginato che potrebbe esserci un coinvolgimento privato in queste cose con dei guadagni da parte di qualcuno che fa un investimento era una cosa che sembrava assolutamente assurda completamente assurda e adesso con mia grande sorpresa e invece sta succedendo quindi come dire lo spazio ci rivelerà sempre nuove sorprese quindi credo dire il mondo è un mondo molto largo e poi lo citavo prima Frediano è collegato allo spazio è il mondo dei lanciatori non ci dimentichiamo che per i satelliti non è che vengono da solo nello spazio deve essere lanciato in qualche maniera no? E allora c'è una competizione nel mondo fortissima per esempio fra l'Europa e gli Stati Uniti sulla commercializzazione dei lanci dei satelliti c'è Ariane in Francia eh in Italia c'è il Vega un piccolo specie di 500 dello spazio ma efficiente ma molto buono e in America ci sono una serie di lanciatori molto potenti l'Europa ha una sua base spaziale chiamiamola così che nella Guyana francese contro cui all'epoca in cui ero un delegato italiano però c'è una guerra spietata perché trovavo che fosse poco europea però però comunque ben avvi il lavoro come dire riescono a gestirla e quindi funziona molto bene poi progressivamente come dire e contro anche il parere dei veri come dire dei veri pari dello spazio ha cominciato ad affermarsi anche una dimensione militare ehm che come dire è cresciuta un po' nel segreto eh e che parte soprattutto secondo me nella parte dell'intelligence intesa e nel senso dell'applicazione dei satelliti no? Allora quando si parla di intelligence e vedo che Andrea è molto affassionato alla materia e quindi come dire eh entro subito forse prima di quanto vorrei nel nel tema eh c'è una grande differenza tra la come si chiama human intelligence e l'intelligence eh tecnologica allora mentre lo human intelligence è una cosa molto difficile in cui l'errore è frequentissimo e non entriamo oggi in questo campo perché non non è questa l'occasione in cui parlarne eh l'interno tecnologica invece è perfetta ehm si prende tutto con una risonanza di un metro io per esempio vi posso dire che una volta eh molti anni fa si può dire in Israele ero la Nato mi portarono gli israeliani a far vedere un filmato di un loro eh di un loro satellite che aveva che faceva solo fotografie eh che non sparava e ci vedeva la fotografia benissimo con alta risoluzione di due signori che avevano lanciato che avevano lanciato che avevano lanciato un razzo poi hanno ripartito in motocicletta uno dei due si era dimenticato il pacchetto di sigarette e quindi sono tornati indietro ci vede loro che tornano il pacchetto di sigarette riparto e si vede la targa benissimo della 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 motocicletta e questo veniva quindici anni fa quindi pensiamo oggi durante la campagna aerea del Kosovo per esempio che è nato ogni muro che passava la montagna tra l'Albania e la Serbia lo vedevamo voglio dire quindi c'è una grande c'è una grande come dire capacità però naturalmente il rischio è quello per uno stato di affidarsi solamente a questa intera tecnologia e dimenticare la dimensione umana che poi è quella invece decisiva in alcune situazioni particolarmente particolarmente delicate su decisioni da prendere quindi questo è un pochettino il quadro generale dopodiché un'altra cosa che come dire sta prendendo piede anche nello spazio è quella dell'intelligenza artificiale e c'è una serie di innovazioni ci sono una serie di innovazioni tecnologiche nelle grandi potenze negli Stati Uniti ma anche nella Russia anche la CIA per cui si va sempre di più verso la tendenza a far decidere alle armi spaziali cosa fare e questa è una cosa estremamente importante dal punto di vista tecnologico molto usata e ogni esercito ogni esercito di una grande paese ha una sua space army in qualche modo che sta facendo coperta l'Italia e però quello di dire il problema che si pone e che alcuni studiosi mettono in rilievo che è molto importante che io segnalo è che lasciare le armi il satellite o quello che sia decidere da solo quando è il momento di intervenire è estremamente pericoloso perché ci può essere un errore un errore un errore umano. C'è un caso che vi cito che è noto e che pare sia vero durante la guerra fredda negli anni Ottanta un ufficiale sovietico che era diciamo di guardia vede sul suo computer arrivare quello che il computer gli dice essere un missile americano ve la faccio molto breve perché appunto abbiamo pochi minuti in realtà lui non sa bene cosa fare a un certo punto il suo protocollo gli dice che lui doveva rispolvere con un missile russo non sa non è agosto non riesce ad avere istruzioni da nessuno decide di non fare niente e aveva ragione perché si era sbagliato il computer ma come dire questo avveniva 40 anni fa probabilmente oggi questo non sarebbe successo e potete immaginare le conseguenze di una cosa di una cosa di questo genere. Dove sta l'Italia in tutto questo? Essendo io ex diplomatico non posso fare a meno di come dire di parlare il linguaggio della mia specie se volete no? E quindi l'Italia forse curiosamente o forse no è un certo peso nello spazio nel senso che l'agenzia spaziale europea circa il 16 18 per cento è come dire da founded by Italy cioè sono solide ed è tanto voglio dire perché i programmi spaziali sono estremamente costosi quindi già ai tempi miei era così 30 40 anni fa 15 16 per cento quindi c'è una 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 antica storica capacità italiana sia nel campo dei satelliti ora anche nel campo dei lanciatori e come dire oltretutto c'è anche terespazio che non è propriamente spaziale nel senso che non vuole o dire sta nel fucino ma che è il centro di formazione spaziale più importante del mondo voglio dire quindi mi sembra che tutto questo sia una permessa per dire che Frediano fiducia è cascato su un buon su un buon argomento e che può per molti anni approfondire grazie grazie ambasciatore perfettamente nei tempi adesso le regole di ingaggio è che faremo due round dei relatori partendo dall'autore Frediano da sei minuti ognuno eh per poi ovviamente andare a ehm conclusione anche con una sessione di domande e risposte da parte del pubblico è vero che siamo in perfetto equinozio però adesso chiudere la porta nel senso che abbiamo salutato la primavera incombente per evitare che poi diciamo ci raffreddiamo ehm voglio intanto introdurre il libro di Frediano come abbiamo detto operazione satellite e i conflitti invisibili dalla guerra fredda all'Ucraina ehm paesi edizione salutiamo anche l'editore che è presente in sala ehm prendo un pezzettino del eh del comunicato stampa eh eh predisposto e qua si dice Frediano Pinucci per la prima volta ricostruisce con documenti inediti ponti esclusive l'è incredibile pressoché sconosciute schermaglie tra le superpotenze Stati Uniti, Russia e Cina a centenari di chilometri a distanza da terra un'inchiesta rigorosa un raro affresco divulgativo. Prima però di eh dare la parola a Frediano io mi concentrerei in questo primo round eh se siamo d'accordo il libro è denso eh è piccolino perché ha centoventi pagine ma ho dovuto rileggerlo due tre volte da quante cose c'erano dentro e dovevo andare indietro a riguardarmi. Tre capitoli mi hanno affascinato più di altri, quarto, il quinto e il sesto che sono quelli dedicati al conflitto conflitto russo ucraino. In particolare un conflitto da punto di vista satellitare iniziato nel duemila e quattordici quando ci fu l'occupazione eh della Crimea dopo il referendum sulla Crimea da parte delle forze eh armate eh russe e eh si parte da questo blackout durato tredici ore dell'intera costellazione dei satelliti russi GLONAS ventiquattro satelliti che forniscono un GPS diciamo eh eh meno raffinato del GPS occidentale ma un GPS tant'è che gli ufficiali dei persino i famosi ufficiali carristi russi usano poi il GPS quello nostro sul cellulare per eh trovare i posti dove devono andare ma comunque questa diciamo è è più una anedotica comunque il GLONAS venne messo a terra ma venne messo a terra con una particolare segnale dato da qualcuno da una mano diciamo più o meno segreta cioè uno dietro l'altro vennero spenti uno a uno non tutti assieme quindi non fu un diciamo malfunzionamento ma fu qualcuno che lo spese lo spense poi Frediano se oltre a raccontare questa cosa ci racconterà invece i due fatti recenti cioè quella che è stata l'azione offensiva nei confronti del K.A. Sat ucraino e poi l'intervento di Elon Musk di cui molto si è letto prima in aiuto diciamo pro bono nei confronti eh del governo ucraino e poi più recentemente diciamo c'è stata qualche disquisizione eh con il Pentagono sulle diciamo pertinenze salvo che tu pochi giorni fa mi hai segnalato un articolo di Reuters in cui si dice che Musk mette a disposizione dell'intelligence americana eh SpaceX per la costruzione di un nuovo di una nuova costellazione eh di satelliti spira allora metto il timer anche se so che sicuramente ecco grazie allora grazie Andrea Vento per eh per questa iniziativa per l'ospitalità grazie dell'ambasciatore Minuto Rizzo e ai nostri ospiti che eh lui noi non ci conoscevamo però grazie allo stesso alla professoressa Di Pippo e Marco Langbrucche che è presente anche nel mio libro e allora vado per ordine cerco di essere molto sintetico per una materia che è estremamente complicata lo dico estremamente complicata e e e quindi cerco cerco di essere molto chiaro allora il primo aprile del duemilaquattordici ehm alle ore dieci e trenta eh Moscovite eh che cosa succede? Succede che eh la costellazione di satelliti russi che si chiama GLONAS che sono ventiquattro satelliti russi che fanno esattamente quello che fa il GPS per coloro che non masticano queste materie ogni volta che voi accendete il telefonino e cercate il il la via per andare al ristorante oppure eh cercate una via eh un una strada in autostrada ecco voi state usando questo questa costellazione americana che si chiama GPS non la faccio lungo questi satelliti mandano dei segnali che vengono letti dal telefonino e restituiscono la posizione sul sul telefonino sullo schermo della vostra automobile sulle navi sugli aerei i russi hanno una costellazione simile che si chiama GLONAS sono ventiquattro satelliti i cinesi ne hanno un'altra che si chiama Beidou che ha esattamente la stessa funzione l'Unione Europea ne sta creando una che si chiama Galileo ma in omaggio al nostro scienziato Pisano e quindi ritorniamo un attimo al primo aprile cosa succede? Il primo aprile improvvisamente tutti questi ventiquattro satelliti si spengono ok quindi che cosa significa che si spengono? Significa che l'esercito l'aviazione e i sistemi missilistici russi non possono contare sul loro sistema di navigazione quindi non li possono usare e questo per quanto? Per tredici ore? Cioè per tredici ore la Russia è vulnerabile che era una cosa mai successa e che non è mai successa nella storia né prima ma neanche dopo ora immaginate che cosa succederebbe se si spingesse il GPS non volerebbero gli aerei non potremo vedere i treni quando quando arrivano un assaggio di questa di questo scenario ce l'avete in un film che si chiama il mondo dietro di te leave the world behind con Julia Roberts che racconta che cosa accadrebbe appunto al mondo se si spegnessero i satelliti c'è un piccolo particolare e questo film è prodotto da due signori che si Michelle e Barack Obama che non sono esattamente gli ultimi arrivati ma torniamo ai nostri amici russi si spengono questi satelliti per tredici ore i russi non dicono nulla passano otto giorni dopo otto giorni se ne spengono altri otto cioè se ne spengono otto di ventiquattro quindi un terzo e considerata la la triangolazione dei satelliti gli esperti dicono che anche in questo caso le informazioni date ehm rendevano impossibile l'utilizzo il GPS passano ventitré giorni ventitré giorni c'è una conferenza stampa del presidente dell'agenzia spaziale russa che se non ricordo male è stato ucciso in Ucraina in un bombardamento che dice vabbè cosa volete che sia in fin dei conti è stato un errore matematico niente di che erore matematico non lo sappiamo però non è non è esattamente niente di che due mesi dopo cioè nel dunque aprile maggio giugno sulla pagina LinkedIn di un analista americano che si chiama Paul Zimaschi che è un analista adesso in pensione però è una persona che ha lavorato per il pentagono che ha lavorato per ehm per aziende spaziali americane e che che ed è tuttorattivo compare un un documento un paper che vi assicuro complicatissimo io ho fatto un po' di studi eh per studiare queste cose se se uno non le avesse fatte non sarebbe arrivato in fondo però mi metto lì lo leggo arrivo in fondo e dico ma questa roba qui è è una bomba che cosa dice Zimaschi questa analista dice che i satelliti non si sono spenti tutti e ventiquattro in contemporaneamente ma si sono spenti uno dopo l'altro ok come se ci fosse qualcuno che li spegne uno dopo l'altro con una checklist cioè prima il primo poi il secondo poi il terzo poi il quarto apro parentesi eh ho intervistato Zimaschi all'incirca per due ore tutto registrato ovviamente e lui mi ha raccontato un sacco di cose cioè allora primo si sono spenti uno dopo l'altro il che non è compatibile con un guasto ok secondo lui è andato ad analizzare le orbite dei satelliti e il momento in cui spegnevano si spegneva il segnale e ha visto che i satelliti si spegnevano quando passavano sopra l'Australia nella fattispecie quando passavano sopra una località che si chiama Alice Spring dove c'è una base da cui è stato tradotto è stato fatto anche un film su Netflix che si chiama Pine Gap che altro non è che una base e l'alleanza tra i servizi segreti eh americano Saturni Tensi, Five Eyes eh neozelandese, canadese e australiano. Cosa mi dice Zimaschi? Zimaschi aggiunge un sacco di particolari divertenti mi dice guarda che il primo satellite ha perso il segnale alle sei e mezzo del mattino di Alice Spring che è l'inizio dell'ora del turno di quella base però mi dice lui secondo me non sono stati quelli di Alice Springs non non mi motiva io insisto ma lui mi dice secondo me sono stati è stato un gruppo di marines americani che è andato lì con degli elicotteri con delle con delle antenne che si occupa di un'attività che si chiama Gemini. Allora chiudo la conversazione con Zimaschi rivelo gli appunti e dico vabbè questa questa cosa è abbastanza così come dire impegnativa giornalisticamente. Quindi io che faccio? Prendo questo questa analisi di Zimaschi, le sue conclusioni e le faccio vedere a degli esperti perché io sono un umile giornalista laureato in scienze politiche non ho la capa non sono un fisico non ho la capacità però lo porta degli esperti negli Stati Uniti in Israele e in Italia e questi esperti che cosa mi dicono? Allora alcuni mi dicono guarda secondo me nel settanta per cento è un errore del software russo che è un po' rustico è tecnologia sovietica quindi abbastanza inaffidabile e trenta per cento può essere un intervento esterno. Un'altra persona mi dice è probabile è possibile non lo potrai mai dimostrare con la certezza che c'è un'unica potenza che può fare una cosa del genere e sono gli americani. Un altro ancora mi dice io con questa storia non voglio avere niente a che fare e consiglio anche a te di starci bene alla larga perché questa storia del Gronas lasciala perdere occupati degli astronauti di Marte eccetera ma lasciala stare e il che ha rinforzato la mia la mia convinzione che si trattava una cosa interessante fino a che non ho trovato una fonte che è è molto attendibile che mi dice no quello che dice il il sei maschi è plausibile secondo me è vero e ti dico anche perché perché hanno voluto lasciare le impronte digitali e allora io però gli ho risposto è abbastanza bizzarro che se tu trovi una vulnerabilità in un sistema di un nemico tu la vai a toccare e lui dice sì è vero però altrettanto vero che se tu hai l'occasione per testare una nuova tecnologia e trovi che c'è la finestra per poterlo fare lo fai allora detto questo siamo nel nel campo delle ipotesi cioè come direbbero gli americani it's not rocket science non è non è una cosa al cento per cento l'ipotesi era intrigante che gli americani hanno lanciato così hanno disattivato i satelliti russi però perché l'hanno fatto allora sono andato un po' a vedere cosa era successo nelle settimane precedenti po' di storia il 16 marzo del 2014 c'è il referendum per l'annessione della crimea alla russia nel cosiddetto referendum perché non è riconosciuto sapete che i famosi omini verdi di putin avevano circondato le caserne ucraine si instaura un governo fantoccio filorusso e istituiscono questo referendum vado a fare un po' di ricerche due giorni prima del referendum c'è un attacco di un gruppo di ecr russi a delle infrastrutture informatiche ucraine otto minuti e fin lì niente di nuovo però i russi eh un' agenzia di stampa russa che è la TASS riporta due giorni prima un articolo e dice che eh gli ucraini hanno tentato di attaccare un satellite russo si lamentano dicono che gli ucraini stanno tentando di dirottare un satellite di telecomunicazioni che è un particolare molto importante perché perché questo satellite nelle vicinanze del referendum è del satellite che consentiva tutta la parte est della russia di ehm fare comunicazioni televisive cioè trasmetteva il segnale doveva trasmettere la vittoria del referendum pro russia il giorno questa cosa è riportata dalla TASS e anche dalla Reuters il giorno prima del referendum un'altra agenzia di stampa che è la RIA Novosti dice che sempre il ministero delle delle telecomunicazioni ucraine eh sostiene che è partito un segnale dall'Ucraina in collaborazione con un servizio di intelligence straniero dove hanno tentato di tirar giù il satellite adesso gli esperti dicono che non è possibile tirare giù il satellite ok eh prendere il controllo di un satellite dovesse entrare fisicamente nella sala dove viene controllato che non è il caso però questa è un'azione che gli esperti chiamano con un termine un po' buffolo spoofing vale a dire un disturbo del satellite per indurre il proprietario del satellite a non avere fiducia nei dati perché i dati vengono fuori sballati quindi i russi pensavano che qualcuno stesse tirando giù il satellite in realtà era un disturbo c'è il referendum del sull'Ucraina sull' sull'annessione dell'Ucraina alla Russia il giorno dopo la CNN pubblica sul suo sito un articolo questo articolo ehm è un'intervista ad una fonte anonima dell'Air Force americana che dice abbiamo notato un'attività inusuale d'intrusiva dei satelliti russi nella zona geostazionaria che praticamente è quella eh geosincro vabbè già stazionato dove ci stanno molti satelliti con non sappiamo bene che cosa stanno facendo consideriamo questa cosa una minaccia la stiamo tenendo d'occhio allora perché vi dico questo vi dico questo perché quest'articolo non esiste cioè che significa non esiste che se voi andate su internet e lo cercate cercate il testo cercate le parole cercate l'indirizzo non lo trovate è scomparso allora voi mi direte scu'a tu come hai fatto a trovarlo l'ho trovato con l'intelligenza artificiale cioè con chat GPT facendo una ricerca con chat GPT ho ritrovato sia l'indirizzo originario l'indirizzo della della pagina web sia il testo con l'intervista questo che cosa significa? Significa che chat GPT che fa una pesca strascico di informazioni in questa sua pesca strascico è incappato in qualcuno che aveva copiato quest'articolo però l'articolo è stato completamente eh cancellato da internet adesso io come dicono gli americani mi limito a mettere insieme i puntini e a unirli per cui Simansky sostiene che gli americani hanno attaccato i russi perché in quel particolare momento c'era un attacco informatica delle banche russe io ho verificato non mi risulta però non ho anche difficoltà a pensare che spesso le banche non dicono di essere state attaccate quando ci siamo parlati lui non era a conoscenza di queste cose che avevo trovate per cui io mi rimetto al vostro come dire al vostro giudizio nell'analizzare tutta questa situazione quanto tempo? Allora in realtà abbiamo esaurito il primo allora aspetto però però siccome non vorrei essere diciamo troppo concentrato solo su in realtà lo disse a direbbe nessuno ha attaccato ciclope quando ciclope veniva accecato si chiede chi è che mi ha accecato e Ulisse risponde nessuno ovviamente eh questo è il caso di Glonas vorrei sentirti parlare anche delle prime fasi del conflitto russo-ucraino cioè di due anni fa che cosa è successo da parte russa nei confronti dell'Ucraina ok allora qui faccio velocemente allora 24 febbraio ci sono i carri armati che sono ammassati al confine un'ora prima che i carristi ricevano l'ordine di accendere i motori che cosa succede? Succede un pesante attacco informatico russo delle stesse modalità eh ucraine nelle stesse modalità di quello che era successo in Crimea ve la faccio molto semplice immaginate noi siamo in questa stanza a un certo punto arrivano mille persone che si mettono fuori dalla porta nessuno entra nessuno esce e quindi questa stanza è bloccata l'attacco informatico russo è lo stesso cioè migliaia e migliaia di 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 persone cercano di di accedere a a dei siti e le bloccano però i russi vanno oltre i russi che cosa fanno? I russi avevano rubato delle password e questa non è un'invenzione mia ci sono dei rapporti della di un'agenzia che si chiama European Space Policy Institute di Vienna e anche della Microsoft che dicono che praticamente i russi avevano rubato il servizio militare il GRU eh delle password per un servizio satellitare che gli ucraini usavano per comunicare con il loro esercito di di che cosa si tratta? Si tratta di un un satellite americano ed un servizio ehm tenuto da un'azienda italiana ok? Una parabola attaccata ad un router più o meno come quello che noi abbiamo che ci consente di attivare il wifi col quale sia la connessione interna. Gli ucraini che diciamo così non dispongono del loro servizio satellitare militare si appoggiavano a questa satellite commerciale. I russi disattivano questi router e quindi gli ucraini sono completamente ciechi e sordi perché non possono comunicare con con i loro soldati fino a quando due giorni dopo Elon Musk non li metterà a disposizione di questo parleremo dopo di Elon Musk quando parleremo delle economie e dei privati non solo nella New Space Economy ma anche nel conflitto russo-ucraino. Mi piacerà anche sentire l'accenno non solo su Elon Musk ma anche quello su Amazon che hai eh Amazon Web Services che hai perfettamente narrato nel volume. Adesso continuerei però ancora sulla dimensione satellitare e chiedo a soprattutto dei satelliti spia chiedo a Marco Langbrook che ci sente quindi ciao Marco. Hi Marco. Hello. It's fine. So please tell us in the next five minutes what is the space situation awareness and what is your job? You are a hunter of a satellites, spy satellites. Space situational awareness basically means keeping an eye on everything that is happening in space above our heads looking what objects are in orbit around Earth but also what they are doing whether any dangerous situations arise for example when two satellites are on an orbit that might and make collide which is something that you do not want to happen but also looking and that's more the military parts which is sometimes called space domain awareness looking at whether maybe some countries are bringing their satellite very close to a satellite of another country on purpose and that happens and I can show you actually examples of that. Let's see if I can share my screen. Do you see this image? Hello? Do we see it? We see the major. Yeah okay. Well this is an image made with a satellite tracking camera that I operate. All these stripes are stars but you see a few dots in the image. These are satellites, geostationary satellites high above the equator, mostly European ones for communication but in the yellow circle you see two of these satellites very close together. The left one is a European commercial communication satellite from Utah Sat but the right one very close to it and it was actually only 20 kilometers away from it at this time is a Russian military satellite called Olimp 2 or Lught 2 and it's standing very close to this European satellite and that is on purpose. This satellite and another similar satellite from Russia each few months they are moved to another commercial communication satellite spent several weeks very close to the satellite and then move on and probably this Russian satellite is listening to the communications through the satellite mapping which persons make contacts from where etc. So it's gathering vital important information for the Russians on communication systems and for of course what the danger of this is that you can bring the satellite so close to listen in so to speak but but you can also bring it so close to in order to when you need try to jam this satellite for example or disable it in any any other way. So this is an example that these things are really happening in space that military satellites from one country are brought close to satellites of others for various darker reasons so to speak. So that's basically this is one small part of space situational awareness and more the military kind of part of it and looking at these these dark shady maneuvers in space that might be dangerous or not. In terms of the spy satellites I have my job and my current job is a result of the fact that for almost 20 years I've been part of a rather small informal international group of people that specializes in tracking spy satellites and notably those satellites which are not in the public catalogs whose orbits are not publicly available and we follow the satellites and we track them and you do that with rather simple equipment actually. Thank you Marco. Let me summarize what you said in Italian. Italian. Ci ha fatto vedere un'immagine dove c'è un satellite diciamo europeo civile che è affiancato da un satellite russo spia. Questo satellite russo spia come spiega bene nel proprio libro frediano uno stalker cioè si avvicina ascolta le comunicazioni del satellite ma può fare anche altre attività come jamming o lo spoofing poi magari torneremo su queste cose qua la materia per me che sono totalmente profano diventa affascinante lo stalker mi piace anche il parallelo che frediano usa nel suo libro assomiglia a quei signori che nelle feste ti si avvicinano e tu stai parlando e ascoltano cioè avete presente delle serate anche come dire sociali in ambienti dove diciamo sono quei personaggi che ti si appiancano e appoggiano l'orecchio e ascoltano la tua conversazione. Ecco quello quello è quel satellite credo eh gestito dal gru o dall'intelligence militare russa che ascolta gli altri satelliti. Sarebbe capire se ci sono dei satelliti logorroici. Sì sono io logorroico. Lo devo lo devo verificare. Bene. Allora. Thank you Marco. Eh eh thank you very much. Ok. Eh adesso cerchiamo di vedere il lato eh meno oscuro anche se utilizzerò partirò eh da un bellissimo disco che ha copiuto cinquant'anni Dark Side of the Moon dei Pink Floyd e chiederò alla professoressa a professoressa Simonetta di Pippo ecco che ha scritto due libri bellissimi ma soprattutto se intravede un futuro pacifico positivo nello sviluppo della new space economy eh nel suo libro parla di asteroidi da scavo eh di eh mining di cittadelle e terraformazione di costellazioni di satelliti di eh tecnologie positive per combattere il cambiamento climatico del resto anche l'abbasciatore eh venuto Rizzucci ne aveva parlato ecco vediamo un po' il lato positivo della vicenda nei prossimi decenni prego professoressa di Pippo ma grazie mille intanto per questa opportunità e è sempre interessante ascoltare no le i vari punti di vista che poi alla fine sono come dire complementari ehm allora certamente eh considerando eh che che tra le tante cose che ho fatto in passato una è stata appunto di dirigere l'ufficio delle Nazioni Unite che si occupa di affari eh spaziali è chiaro che eh l'occhio è verso diciamo l'uso pacifico eh dello spazio ora l'uso pacifico dello spazio parte eh dall'idea che poi è quella contenuta nel trattato base diciamo che è un po' eh al come dire le fondamenta costituisce le fondamenta della legge spaziale internazionale che è appunto l'outer space treaty dove si dice che lo spazio è la provincia dell'umanità e che tutti devono avere la possibilità di utilizzarlo appunto per scopi pacifici di esplorarlo di utilizzarlo per scopi pacifici eh e questo indipendentemente dal proprio livello di sviluppo tecnologico tecnologico economico che significa che in qualche modo deve essere considerato bene comune. Ora ehm quando si parla di risorse spaziali si intende non soltanto eh appunto la parte più mineraria quindi terre rare piuttosto che acqua piuttosto che vari altri elementi per esempio sulla luna sugli asteroidi ma si intendono anche le orbite le frequenze eh che peraltro vengono assegnate in un modo eh ben strutturato dall'ITU cioè dall'Unione eh per la telecomunicazione internazionale che è un'altra agenzia eh che è un'agenzia delle specializzata delle Nazioni Unite con sede a Ginevra. Eh il che vuol dire che in linea di principio non si può lanciare un oggetto nello spazio un satellite per esempio eh senza aver avuto prima l'autorizzazione e quindi l'assegnazione della frequenza ma questi sono diciamo dettagli tra virgolette perché in realtà eh si ha l'impressione diciamo così che eh non ci siano regole in realtà ce ne sono abbastanza forse non a sufficienza soprattutto se guardiamo all'esplorazione lunare ma si tende sempre di più ad andare verso diciamo un una convergenza dei paesi membri delle Nazioni Unite eh e ovviamente ci sono tutti i principali attori quelli che abbiamo citato fino ad ora eh affinché si abbia quello che viene definito un comportamento responsabile per esempio si parlava prima di un satellite che si avvicina a un altro ebbene eh ci sono discussioni anche abbastanza accese devo dire ma comunque ci sono discussioni in corso da qualche anno nelle Nazioni Unite per cercare di regolamentare anche queste manovre quindi le manovre in orbita le manovre di rientro le informazioni prelancio eccetera dovrebbero andare a complementare quello che è il registro eh degli oggetti lanciati che è peraltro gestito dall'ufficio che che dirigevo e e che in qualche modo viene costruito sulla base delle informazioni che i paesi membri forniscono. Ora eh la questione è complessa non si può pensare diciamo ehm che non ci sia effettivamente un forte lavoro a livello diplomatico soprattutto eh è è una sorta di diplomazia preventiva cioè in qualche modo si cerca di usare la piattaforma Nazioni Unite dove appunto ci sono i cento e novantatré paesi eh rappresentati appunto le Nazioni Unite eh che in qualche modo cercano di trovare eh un eh approccio comune. Tra l'altro a Vienna eh dove c'è il comitato che si occupa dove si riunisce il comitato che si occupa di queste cose e che a questo punto ha come membri più di cento paesi quindi più della metà di quelli afferenti alle eh Nazioni Unite dove ci sono ovviamente tutti i principali paesi quindi cinesi, gli indiani, i sudcoreani, i russi, gli americani, gli europei, eccetera. Beh insomma in realtà lì si approva tutto per consenso. Vale a dire che eh non si vota e quindi voi immaginate tutta l'operazione diplomatica che è necessario fare per arrivare a documenti, a linea guida trattati ormai sono decenni che non si approvano più almeno nel settore spaziale perché comunque è un processo molto lungo e si è preferito andare verso quella che si chiama la soft law quindi eh principi e linea guida che poi in realtà siccome sono approvate per consenso vengono abbastanza seguite. La situazione non è eh semplice ovviamente eh il fatto è che però ehm io ho visto almeno negli anni in cui sono stata lì una tendenza di questi paesi a cercare di trovare la soluzione e di solito è una situazione di compromesso che ovviamente non è la la soluzione migliore ma è quella che in qualche modo consente appunto l'accordo. Credo che ci sia la possibilità di se se si facilita il dialogo e vabbè e qui poi chiaramente entriamo in un discorso complesso ma se si riesce a facilitare il dialogo si può probabilmente avanzare almeno su alcune di queste questioni. Eh grazie professoressa. Poi ehm torneremo in un secondo round a parlare delle differenze anche di atteggiamento tra Russia, Cina, India, cioè una serie di soggetti che stanno cominciando ad affollare lo spazio. Arrivo al ultimo nostro redattore dove ci via Mello. Ehm vorrei capire nell'esperienza se esiste un ecosistema, un mercato finanziario per lo sviluppo delle start up, delle scale up del settore difesa aerospazio in Italia. È un po' il lavoro che stai facendo adesso con eh Star Tech Ventures e anche le differenze tra il finanziamento, cioè ricorso dei capitali in Nord America, penso sempre al TARPA della difesa americana che finanzia qualsiasi start up eh sul tema aerospaziale e l'Europa dove c'è il sovranismo francese e poi questi nuovi strumenti come lo European Defense Fund e la NATO Innovation Fund. Prego Nonce. Eh grazie. Vorrei prima ingratiare per per l'invito particolarmente che ehm è un punto che non è discusso a sufficienza in Italia. Ehm c'è un fatto che ai tempi mi aveva detto il direttore generale di European Investment Fund che quaranta per centi di ingegneri aerospaziali nella EU sono italiani. sono andato a verificare ed è vero non l'abbiamo visto da nessun'altra parte ehm non lo sapeva neanche la cassa di previdenza che se ne occupa di questi ingegneri non non sapeva di questa copertura. Eh Italia è uno dei paesi che investe la maggior parte nei fondi sia di difesa che di aerospazio. Cioè basta vedere eh quanto ha messo l'Italia. Ha messo un miliardo e due nel budget di European Space Agency di quest'anno ha messo l'Agenzia Spaziale Italiana a disposizione per molti molti progetti di ESA pure ESA gestisce alcuni progetti di Italian Space Agency. Quindi essendo il terzo contributore anzi ehm molto vicina a alla Francia ma purtroppo non prende in conseguenza eh quello che aspetta particolarmente che questi eh molti di questi 40% di eh ingegneri aerospaziali europei alla fine stando a Roma lavorano per le società francesi. Ah che è un altro punto però comunque devo dire con un notevole ritardo ehm la comunità europea praticamente European Commission eh e anche la banca europea si sono svegliate devo dire il 12 gennaio quest'anno quindi sappiamo tutti quando è cominciata la guerra eh e quando hanno cominciato i problemi con eh con la Russia e la Cina eh invece il 12 gennaio è stato rilasciato un fondo nuovo che si chiama European Defence Fund che è un fondo di soli 720 milioni eh dedicato a alla difesa europea dove Italia uno dei eh contributori eh principali finora non sono riusciti a stanziare un euro di di questi soldi quindi già siamo con con i tempi biblici si prevede tra 15 a 18 mesi eh tra la partenza del fondo a location di questi soldi eh a quel evento avevano invitato quello che loro ritenevano eh sette fondi che lo facciano noi eravamo unici dall'Italia dove ci hanno detto eh vabbè sì voi siete Italia o voi daremo 20 milioni su 720 ai tedeschi daremo 60 ai francesi daremo 60 ho detto scusatemi perché a noi 20 se noi abbiamo più società e più interesse ah no vabbè sì Francia Germania curiosità sta che sulle altre quattro presenti un'era polaca e tre erano baltiche quindi ovviamente non abbiamo capito bene come vanno distribuiti questi 720 milioni sulla difesa visto eh vista la location ma comunque almeno eh si sta muovendo negli Stati Uniti esistono i fondi veri c'è quello direttamente della CIA che si chiama IQTel che è estremamente attivo che fa un paio di investimenti al mese eh per non dire quanto è stanziato alla DARPA poi ci sono i grant alle società piccole e medie imprese oppure le startup americane che sono molto grandi però ad oggi in Europa esiste questo fondo che si chiama European Defense Fund come dicevo di 720 milioni e invece è stato lanciato ancora non attivo NATO Innovation Fund che è molto benvenuto che è un fondo di un miliardo è un po' anomalo perché non permette di investire in ogni paese della NATO e non neanche copre tutti i paesi della NATO ma solo quelli che hanno tirato fuori i soldi dove ripeto molto strano che la Francia non c'è cioè Francia non ha investito in in quel fondo però almeno esistono European Defense Fund e NATO Innovation Fund adesso in Europa eh un punto di di orgoglio per l'Italia eh che è il managing partner di NATO Innovation Fund è il nostro Andrea Traversone una persona di lunghissima esperienza eh 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 è molto molto capace si spera che da giugno eh comincino anche loro a a investire però per il momento siamo un po' eh siamo un po' orfani di qualche family office eh qualche club deal che dobbiamo creare con eh con magari delle delle famiglie italiane che sono già presenti nel settore di difesa l'ultimo punto collegato con questo a ad integrare a a NATO Innovation Fund e eh European Defense Fund che pure gestito da European Innovation eh da due persone quindi tutto questo da due persone che mi dispiace veramente per loro sono capacissimi però non si può non si può gestire tutto con eh con due persone ma la situazione con le casse di previdenza e i fondi italiani è che eh la cassa e il fondo cioè tecnicamente che gestisce questi ingegneri che lavorano in difesa in Italia per esempio che prendono i soldi da dai dirigenti e quadri di Leonardo Fincantieri per esempio Otto Benara non possono investire nelle società eh collegate con la difesa primo secondo neanche la cassa dei giornalisti assolutamente non gli è permesso di investire in niente che ha a che fare con la sicurezza e con la difesa che mi sembra assurdo a paragone per esempio con la Svezia che prima cosa che ha fatto la Svezia siamo parlando di un paese che che è molto alto per quanto riguarda ugualità delle generi e e comunque eh altamente eh eh considerata come un paese ISG cioè Environmental Social Governance eh le casse di previdenza svedesi prima cosa che hanno tolto qualsiasi obbligo di ISG qualsiasi obbligo di sustainability eh e hanno permesso ai fondi svedesi di investire pesantemente nel settore di difesa che abbiamo visto ovviamente con le azioni di Saab e di Rain Metal che sono che sono salite come conseguenza di investimenti eh notevolmente svedesi invece in Italia non è concesso ai fondi di investire nella stessa Fincantieri oppure Leonardo che assumono tantissime persone eh qua in Europa eh quindi direi che ho completato il primo grazie tu hai sempre citato la parola difesa ma noi intendiamo difesa e aerospazio sì con una forte ovviamente eh componente percentuale come abbiamo detto del dell'aerospaziale ad esempio in Italia devo dire che quella percentuale del quaranta per cento degli ingegneri aerospaziali italiani fa il paio con quel diciotto per cento che aveva citato l'ambasciatore Minuto Rizzo della contribuzione alle spese di ESA eh quindi esiste una filiera italiana non esiste una filiera significativa speriamo che non succeda quello che è successo al nucleare italiano laddove ehm eh la SEDSE che è l'equivalente della CTP eh francese della cassa deposito e prestito attraverso i propri eh strumenti bracci fondi armati in questo caso la banca pubblica da investismo viene in Italia a fare shopping di ingegneri di di start up di scale up e poi se le portano eh a casa ecco questo un po' è il problema dei settori strategici e antifragili italiani cioè ho citato il nucleare ma riguarda anche difesa aerospaziale torniamo a noi per un secondo veloce giro di cinque minuti eh ognuno ma andremo in senso inverso parto dalla professoressa eh di Pippo eh volevo completare quel ragionamento eh delle differenze di postura se vogliamo tra Stati Uniti che eh sono un pochino leader in questo settore aerospaziale eh Russia Cina India e mh è un accenno al privato cioè eh soprattutto al grande attore di questa partita che è Elon Musk. Voglio ricordare che nonostante da due anni si sia in un clima eh qualcuno cita in realtà cito Frediano Penucci di prima guerra mondiale satellitare eh che ancora in ambito spaziale l'unico settore in cui i russi ed americani ancora collaborano è quello spaziale quindi questo è un elemento se vogliamo fa parte dei paradossi eh di questa storia quindi eh andiamo a vedere il lato positivo di questo sviluppo prego professoressa. Sì no eh sulla stazione spaziale internazionale che appunto è questo grande laboratorio che è orbita a circa quattrocento chilometri sopra le nostre teste in realtà eh è tutto continuato eh esattamente come come prima eh abbiamo eh cosmonauti russi che vanno verso la stazione da suolo americano partendo da suolo americano con mezzi americani peraltro il Falcon 9 e la Dragon di di Elon Musk e abbiamo anche degli dei cosmonauti russi che invece eh scusi degli degli americani che astronauti americani che invece rientrano con veicoli russi in in territorio russo eh lo scorso anno per esempio c'è stato un caso abbastanza significativo eh perché eh un equipaggio composto da due russi e un americano doveva rientrare dalla stazione spaziale internazionale con un veicolo russo questo veicolo ha avuto dei problemi tecnici eh e quindi in sostanza era impossibile farci rientrare l'equipaggio eh e quindi si è trattata è stato abbastanza interessante perché Roscosmos che è l'agenzia russa e la NASA eh che appunto quella americana si sono seduti a tavolino per settimane eh per decidere chi doveva andare a salvare in qualche modo questi tre astronauti e alla fine si è deciso che doveva essere Roscosmos quindi i russi hanno fatto rientrare vuota questa mh questa navetta la Soyuz eh hanno lanciato un'altra Soyuz eh vuota eh la missione congiuntamente è stata estesa di diversi mesi e poi i tre astronauti quindi i due cosmonauti e e e l'americano sono rientrati eh nel deserto del Kazakhstan quindi in realtà si vede che c'è una continua eh c'è continuo coordinamento in realtà lo spazio è sempre stato una sorta di piattaforma diplomatica ed ecco poi il discorso anche che io in qualche modo ho accennato appunto nel libro Luna Laboratorio di Pace dove in qualche modo si dice che la Luna eh almeno io auspico che la Luna possa essere una sorta di palestra eh per tentare degli esercizi di diplomazia eh perché sulla Luna non ci sono confini sappiamo che ehm alcune zone di atterraggio indicate ufficialmente dalla NASA e alcune zone di atterraggio eh al Polo Sud eh indicate dalla Cina sono in realtà in sovrapposizione quindi c'è stata piena trasparenza su dove si intende atterrare però c'è anche un problema di sovrapposizione e siccome in linea di principio non c'è appropriazione ma non ci sono nemmeno diciamo le regole del traffico eh le regole della strada in qualche modo da seguire beh è chiaro che qui ci può essere un problema se non si eh appunto usa tutta la diplomazia possibile in modo preventivo ed è qui che entrano un po' anche in gioco diciamo i privati perché i privati eh che in qualche modo stanno eh come posso dire ottimi stanno ottimizzando quelle che sono le tecnologie che sono state sviluppate con fondi pubblici è successo con le telecomunicazioni dove c'è stato un grosso investimento pubblico e a oggi il novantacinque novantotto per cento dei satelliti per telecomunicazioni in orbita sono di tipo commerciale sta succedendo nel settore dell'osservazione della Terra succederà sempre di più anche per le stazioni spaziali in orbita bassa c'è per esempio una in fase di costruzione che è guidata da Blue Origin che è la società di Jeff Bezos nel settore spaziale e eh servita peraltro poi da dai sistemi per esempio quelli di Elon Musk per portare appunto eh avanti e indietro eh i visitatori diciamo poi di questa di queste stazioni. La cosa importante per i privati è che soprattutto in orbita bassa ma anche sulla Luna siccome si parla appunto di economia loro hanno bisogno eh e quindi di business hanno bisogno che ci sia una situazione stabile che sia prevedibile che quindi in qualche modo ci sia anche sostenibilità e quindi sono i privati a eh spingere gli stati affinché trovino diciamo così un accordo su quelle che sono appunto che dovrebbero essere le regole della strada. Sul discorso poi dei privati più complessivo oggi parliamo di un'economia spaziale che vale stimata cinquecento quarantasei miliardi di dollari è una sottostima ovviamente perché tutta la parte di indotto quindi tutta la parte che viene eh come dire che va a supporto eh della vita di tutti i giorni del cittadino quindi servizi applicazioni che si basano su dati e infrastrutture spaziali quella parte lì è più difficile da misurare con diciamo con precisione e quindi i cinquecento quarantasei miliardi di dollari sono come dicevo decisamente sottostimati e tra l'altro è un'economia che cresce senza flessioni anzi cresce abbastanza rapidamente quindi quando si parla per esempio di orbita bassa è chiaro che l'accesso alla stazione spaziale oggi eh è eh assicurato da Elon Musk Elon Musk che ha sviluppato eh delle tecnologie innovative ha introdotto delle delle innovazioni di processo e ha in qualche modo seguito almeno nella prima fase eh quello che era eh una strategia mh eh diciamo governativa eh negli Stati Uniti per cui in qualche modo le regine strategiche le ha tenute comunque la NASA eh come espressione diciamo dell'amministrazione americana in questa seconda fase eh c'è invece una tendenza di un un po' un salto in avanti eh Starlink è eh un'idea che viene tutta su base commerciale e comunque alla fine sarà una costellazione di quarantadue mila satelliti per coprire l'intero globo e ehm e dall'altra c'è il discorso di ehm Starship che è questo grosso nuovo veicolo nulla è stato mai sviluppato di simile prima e che chiaramente potrebbe rivoluzionare il trasporto eh non soltanto verso la Luna o Marte ma anche sulla Terra perché appunto una delle proposte fatte da Elon Musk è che Starship possa andare per esempio da Londra a Los Angeles in circa mezz'ora certo bisogna fare bisogna andare nello spazio rientrare ma quello è più o meno il tempo stimato quindi qui siamo in presenza diciamo di un cambio di paradigma eh stanno cambiando le regole del gioco e e chiaramente questo significa che eh si deve seguire molto attentamente eh diciamo un po' eh l'evoluzione eh quindi di questa space economy che nasce in realtà eh anche come definizione poco più di dieci anni fa ma che va a un ritmo molto serrato che peraltro poi quello che noi facciamo eh alla SDA Bocconi eh con lo Space Economy Evolution Lab cerchiamo proprio di studiare in anticipo se vogliamo studiare i temi alla frontiera dell'economia spaziale per essere sempre eh diciamo in linea con i tempi. Eh professoressa veramente elementi che ci devono far pensare credo eh che a differenza di Elon Musk che vuole portare un milione di persone dice che vuole morire su Marte eh io mancherò questo appuntamento però ehm il professoressa lei non ha parlato del turismo spaziale che è un altro elemento di questa economia ricca e complessa veramente i nostri amici di Roscosmos già lo facevano prezzolati diciamo con qualche giro nello spazio però invece l'elemento che mi piacerebbe non mancare come appuntamento e andare a Los Angeles in mezz'ora quello lo vorrei fare se se Musk mi mette a disposizione la possibilità farebbe parte delle cose diciamo nella mia checklist personale che vorrei eh diciamo segnare. Ehm ci hanno servito Elon Musk Frediano. Allora cosa ha combinato Elon Musk? Che mi ricorda un po' queste compagnie di ventura cinquecentesche italiane nelle guerre rinascimentali tra Francia e Spagna c'erano i nostri capitani di ventura tu che sei toscano ne hai visti qualcuno nel cinquecento e che eh servivano eh gli uni o gli altri ducati e e qua ci aggiungerei anche a Amazon ci aggiungerei come abbiamo detto altri grandi tycoon del digitale californiano. Cosa ci racconti di Musk e la guerra russo-Ucraina? Allora eh io vi racconterò la parte del la parte dell'intervento di Musk non ho avuto il piacere cosa che mi sarebbe piaciuto di conoscere Elon Musk come invece la professoressa di Pippo ha avuto quindi invito anche lei dopo magari dopo che avremmo sentito Marco Langbrook eh lei l'ha conosciuto quindi lei diciamo così a pelle ci può raccontare io vi racconto della parte ucraina che cosa è successo? Come ho raccontato il ventiquattro febbraio eh i russi disconnettono eh il governo ucraino dal suo esercito e e quindi un collaboratore di Zelensky che cosa fa? Scrive su Twitter allora si chiamava Twitter perché non l'aveva ancora comprato Elon Musk scrive su Twitter calo Elon Musk mentre i tu cerchi di colonizzare Marte con i tuoi razzi i russi eh ci stanno attaccando pesantemente per favore eh mettici a disposizione eh la tua costellazione Starlink. Il giorno dopo Elon Musk risponde va bene e vi metto a disposizione Starlink due giorni dopo quindi eh parliamo del se non ricordo male il ventisei questo collaboratore di 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 Zelensky pubblica su 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 Twitter una foto di un camion pieno di parabole satellitari un camion militare che che scarica queste parabole adesso io quando vado a fare in giro le presentazioni spesso mi capita di 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 avere a che fare con dei militari la domanda che io faccio è questa ma secondo voi è possibile in quarantottore portare un camion militare carico di apparecchiature elettroniche mentre i russi sono alle porte di Kiev con i bombardamenti e la risposta che mi hanno detto alcuni mi dicono possibile ma molto difficile l'altra è impossibile dove voglio arrivare voglio arrivare che Elon Musk si stava preparando da tempo ad inviare Starlink in Ucraina aveva bisogno di un ok formale lui ha scritto anche nella sua biografia che secondo lui l'ok formale del governo ucraino era appunto questo Twitter però la cosa interessante è che ehm non solo ehm Elon Musk si stava preparando da tempo a ehm appunto a supportare questo Starlink ma la cosa interessante è che anche i russi lo sapevano tant'è che nel novembre del duemilaventuno ehm c'è un episodio molto inquietante vado a dire i russi lanciano un loro razzo verso un satellite vecchio in gergo si dice decommissionato e lo fanno a pezzi creando all'incirca tremila detriti questa cosa ha allarmato molto la comunità internazionale non è la prima volta che venivano fatta che veniva fatta questa cosa perché lo avevano fatto anche i cinesi però che cosa è successo che per stessa missione del degli ingegneri di Elon Musk questi tremila detriti hanno disturbato il segnale di Starlink ed hanno provocato anche un'altra cosa cioè praticamente quando ci sono dei detriti questa la professoressa di Pippo ve lo traspegare meglio di me che cosa succede che i satelliti devono accendere i piccoli rezzetti che hanno e e e devono alzarsi di quota quando è che finisce la vita di un satellite finisce quando finisce il propellente cioè praticamente pensate come se se avessero all'interno un grande bombolone di spray di lacca che consente di di far muovere i satelliti un'altra del del delle conseguenze di questi detriti che diminuiscono la vita dei satelliti quindi alcuni analisti hanno visto in questo atto russo clamoroso il primo tentativo l'antipasto dell'invasione dell'Ucraina questa è la prima parte la seconda parte riguarda il comportamento controverso e ambiguo che ha avuto Elon Musk perché Elon Musk da un lato ha messo Starlink dall'altro all'inizio della guerra lui ha dato tre mesi di stipendio ai suoi dipendenti di origine ucraina che fossero andati a combattere non solo ma lui ha messo a disposizione le sue colonnine di ricariche elettriche gratuitamente per le auto degli ucraini per gli ucraini che avevano le auto elettriche nei territori confinati poi a un certo punto che cosa si rende conto Elon Musk si rende conto che dei ventiquattromila delle ventiquattromila parabole che lui aveva inviato in Ucraina la metà non li paga l'abbonamento per cui va a batter cassa al pentagono e dice signori io qui mi sto dissanguando mi sto diciamo così va bene la l'afflato interventista eccetera eccetera ma io qui corro il rischio di rimetterci un sacco di soldi e qualcuno ha intravisto in questa in questa sua eh richiesta di soldi anche la la un tweet strano una sorta di proposta di pace che lui aveva fatto a Putin che aveva fatto molto arrabbiare gli ucraini dopo questa proposta di pace improvvisamente l'argomento quattrini scompare e è arrivato il bonifico diciamo così è arrivato il bonifico la distinta eh molto probabilmente dal 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 pentagono dal dipartimento di stato sappiamo invece che le parabole sono state pagate da un un'associazione che si chiama USAID che è una specie di protezione civile americana eh sì forse anche dalla commissione europea sicuramente dai polacchi poi potremmo andare ancora avanti però io vorrei lasciare spazio agli altri ringrazio dici solo qualcosa su Amazon Web Services gli altri californiani che hanno dato una mano a allora praticamente che cosa è successo? È successo che ehm i russi Luca Steinman che è qui che è qui di fronte a noi che ha 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 visto la guerra dal da vicino forse ce lo potrà confermare i russi eh scelgono i loro obiettivi con molta cautela perché anche loro eh le loro armi costano ora quindi che cosa fanno questi 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 generali prima di bombardare un obiettivo fanno un'incursione hacker nei sistemi per capire che cosa c'è dentro ai posti dove vanno a bombardare e e se vedono che il sistema controlla delle cose interessanti lo bombardano questa è una cosa che si trova in un rapporto di Microsoft cioè che praticamente ha visto che prima di ogni bombardamento c'era un'incursione di hacker nei sistemi del dei dei posti bombardati con relazione di nuovo tra le interviste che ho fatto ce n'è una ad un ex all'ex presidente dell'agenzia l'ex direttore dell'agenzia spaziale israeliana che è un generale si chiama Isaac Ben Israel perché agli israeliani questa cosa interessava molto interessava molto capire come i russi entravano nei sistemi informatici prima di bombardarli perché li interessava è è è intuibile e e e loro hanno visto che praticamente eh questi attacchi informatici russi sono stati importanti per il morale cioè per fiaccare il morale gli ucraini però alla fine non hanno dato tutto quei risultati sperati perché per due ragioni primo perché gli ucraini quando è scoppiata la guerra hanno migrato i loro servizi su questa cosa che si chiama Amazon Web Service che è un po' una sorta di cloud un super cloud e quindi praticamente una volta che li hanno colpiti non hanno perso i dati e secondo perché non c'è stato questo hanno visto gli israeliani un coordinamento molto come dire un coordinamento adeguato tra gli attacchi informatici e i bombardamenti a volte ci sono stati gli attacchi informatici anche di infrastrutture che erano sensibili però i russi si sono scordati di bombardare o non l'hanno fatto è successo qualche cosa per cui non lo dico io perché ovviamente non ho le le competenze però lo dicono gli israeliani. Bene grazie Frediano siccome abbiamo un quarto d'ora e ci dobbiamo far stare dentro tante cose perché poi sarà ci sarà un piccolo aperitivo un piccolo brindisi per eh festeggiare eh con i nostri ospiti il eh il libro allora eh ci sono due interventi ancora che voglio sollecitare perché l'ambasciatore richiederò invece una riflessione conclusiva ma nel mezzo ci sono anche le domande del pubblico. Allora parto da Marco Langbroek. Uh can you tell us Marco about uh all the objects not not identified so not only debris or what is in the middle and it's not registered so are you observing also unknown objects in space and how many of these unknown objects are satellites that are spying us yeah sorry I was still muted it um it depends a little bit on what you mean with unknown but um if it if you are talking about objects that are not in a public orbital database then there are several of these uh that we follow um the de facto public orbital database is the database by the americans by the american military tracking network and that's basically used by the whole western world of course the chinese have their own database russians have their own database but those are more closed but the interesting thing is that in this american database there are some 200 objects that we follow with our network these are not in that database that's to say they are there in there with a name usually a code name but there are no orbital uh there's no orbital information available so there's no information in a database which which you can say oh at 10 o'clock i have to look there and i will see it pass and uh those are a total of around 200 objects at this moment that we uh follow and in addition there are a number of other objects where we really don't know uh where they are from from what country uh what what they are most of these are probably not spy satellites but space debris that we just cannot couple to a specific launch but you never know whether anything is hiding in that population as well but for at least 200 objects uh we know that they are there uh but they will not find public orbital uh elements and these are mostly um objects from america and his allies uh including uh interestingly enough for italian objects uh as well um and we follow this with these with our network so the orbital data that are available on these are based on on independent observations by a small independent network that i'm part of thank you uh marco we are fascinated because we were marco could you please tell us um which kind of tools do you use to identify those satellites do you use for example uh i don't know optical cameras what do you use yeah let's see if i can share my screen again this is uh an example of one of the instrument that i use this is a very small instrument and it's basically a surveillance camera the same kind that you put out outside your house to make sure that no burglars are coming to your house at night with a very sensitive lens and this equipment you can actually use to to track satellites and you also have more sophisticated cameras and but this is basically what uh one of the things that i use another instrument that i use is just a normal um digital mirror reflex photo camera with a good lens on it and then you can take pictures of the night sky and identify all satellites that you see uh and of course at a certain point you will identify objects that are not in this public database so you know okay this is something new and actually most of these objects we know um what launch they are from because we basically start with tracking them uh at the moment they are launched when um a spy satellite is launched the launch itself is you cannot keep that secret if you launch something from cape canaveral you see the launch up in new york even when it goes up uh parts of the ocean has has to be closed for uh where for example the rocket stage is splashed down and these are this is information that is by necessity public as well and you can use that information to actually even before the launch already determine in what direction they are going to launch which gives you an innovation inclination of the orbit they are going to use and the orbit you are going to search for that object so with each new launch we try to determine this probable orbit then keep an eye on that orbital plane until we see something pass and quite often within one or two revolutions after the launch you already have the object until we some see something pass that should not be there because not in the database and then we know okay that is this object from this launch and then we keep following it over weeks months years also when it maneuvers etc but it's mostly done with a very simple equipment out of the backyard of a number of uh basically amateur observers thank you thank you marco please stay with us because maybe there are some q a uh devo dire che questo è il mestiere più antico del mondo osservare le stelle seconda seconda beh no quella secondo me il pastore era da solo perché non avete visto eh sasha baron cohen nel dittatore e il pastore sa solo mungere la pecora e anche quando arrivano le prostitute quindi consiglio questo film eh fondamentale quindi i pastori guardavano le stelle e il primo più vecchio va bene perché erano da soli allora no adesso al di là della battuta ehm andiamo a a conclusione e raccogliamo anche delle domande ma prima di andare al giro di conclusione ci saranno una domanda per la stessa domanda quindi si preparano eh alessandro e simonetta però volevo chiedere una domanda novizza ehm nell'esperienza di start tech venture queste start up nel settore aerospaziale italiana promettenti possiamo pensare in un prossimo decennio ventennio interessante in questo settore hai detto ci sono gli ingegneri spaziali ma ci sono anche gli imprenditori è la domanda eh o le intravedi ehm per non risponderti direttamente su su questo qua volevo dire volevo dare tre punti un po allora l'Italia è stata il terzo paese nello spazio cioè nel se non erro 1964 Italia ha lanciato ehm ehm come si chiamava San Marco 64 è vero che è stato il terzo paese cioè dopo Stati Uniti alla Russia che che ha superato l'atmosfera primo secondo eh un po' andando su leggero capitani di ventura cioè il termine capitani di ventura ha fatto nascere il termine venture capital esattamente questo e poi e poi la la terza che che devo dire che nessuno tranne eh tranne il mio professore di Wharton sapeva che anche che è il modo come funzioniamo noi per detto in cinque secondi prendiamo cento milioni da cassa depositi e prestiti eh investiamo cento milioni raccogliamo trecento milioni restituiamo cdp eccetera cdp prende ottanta per centi del netto guadagno che proviene da da Venezia cioè che era di interesse che ottanta venti proviene dal fatto che tutte le navi di Venezia appartenevano al doge che le prestava ai capitani di ventura che quello che guadagnavano si tenevano venti per centi quindi famosi venti ottanta venti che era di interesse anche quello italiano ecco quindi direi a quel punto per risponderti nel modo contrario che anche imprenditori li troveremo grazie già eh volevo solo aggiungere eh un punto su su quello discusso prima sui russi che hanno distrutto un un satellite vecchio loro di commissionato ovviamente erano tantissime intenzioni particolarmente minacciose ma oltre a quello due settimane fa è uscito un elaborato americano molto discusso sul fatto che america che i russi hanno preparato un missile nucleare distruggi i satelliti quello lì è tremendo perché adesso stiamo parlando di otto mila novecento satelliti che sono che sono sul cielo tre anni fa erano tremila tre solo Elon Musk ha previsto quarantatremila satelliti quindi stiamo parlando di una progressione pazzesca è un missile lus russo nucleare che in grado di 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 eh di distruggere tutto questo in un in un attimo non si può fare niente contro quello quindi eh è un punto da considerare ecco ti ringrazio ti ringrazio Novitsa la utilizzerò questo tema per porre la domanda finale e devo dire che più che d'oggi a me piace molto Elisabetta prima d'Inghilterra che affida a dei pirati diciamo di mestiere la guerra da corsa Sir Francis Drake ecco quelli sono i veri imprenditori purtroppo ne dovremmo avere qualcuno di più anche in Italia di quel tipo di imprenditori. I pirati ce ne abbiamo un sacco. I pirati tanti ma scalcinati quelli erano eh corsari era qualcosa di diverso. Comunque domande dalla platea quindi abbiamo anche un bel microfono domande interventi abbiamo cinque minuti per le domande e poi andiamo al round finale. Hanno una brutta fine per gli uomini con la bandiera di questo. Raleigh muore male però Sir Francis Drake non muore così male. Poi ne parleremo eh è un altro tema. Però nello spazio la professoressa di Pippo riconoscerà che ci sarà anche la guerra da corsa nello spazio fra fra cinquanta o cent'anni. Prego. Buonasera volevo sapere ehm diciamo quarant'anni fa Reagan lanciava le guerre stellari in un mondo dipolare. Stati Uniti, Unione Sovietica. Oggi come è stato ricordato il mondo è multipolare quindi vuol dire che questa multipolarità quindi Russia, Cina, forse l'India oltre agli Stati Uniti si rifletterà anche in queste nuove tra virgolette guerre stellari tramite i satelliti. Grazie. Grazie. Altre domande perché ne dobbiamo raccogliere due o tre. Anche tre o quattro. Io ho una domanda molto semplice che riguarda la diffusione di queste tecnologie di cui stiamo parlando. Nel senso un conto è avere eh un conto è che uno Stato abbia a disposizione una tecnologia a livello di elite. Un conto è la diffusione di questa tecnologia sul piano militare per esempio a livello di truppa. Questo lo vediamo con le truppe russe in grado di bersagliare con una precisione incredibile alcuni obiettivi ma al contempo incapaci di distribuire una tecnologia elevata o di qualità eh a livello di di trincea. Ecco quindi proprio questa è la domanda. Quanto conterà non soltanto l'avere la tecnologia ma la capacità di diffondere a livello militare questa tecnologia nel fare la differenza per gli attori geopolitici? Grazie. Ancora due. Sì. Non c'è coraggio. Eccolo. L'ingegnere aerospaziale o nucleare? Non mi ricordo però. Entrambe grazie. A proposito di questo volevo chiedere l'applicazione del nucleare nello spazio. Recentemente la Cina e la Russia hanno dichiarato di voler accendere un gattore nucleare sulla Luna. Sai che non ti stavo sentendo perché c'era. La tecnologia nucleare applicata allo spazio. Recentemente Cina e Russia hanno dichiarato di voler accendere un reattore nucleare sulla Luna. L'America si sta muovendo. L'Europa anche. L'Italia anche. Quindi questa cosa qua come influenzerà il futuro? Perché comunque si parla di duemila e ventisei, duemila e ventisette. Nello spazio è dopo domani. Altre domande? L'ultima. C'è qualche coraggioso? Prego, prego. Vai, vai. Vai sulla monnezza. Eh sì, sento che si parla molto di lanciare nuovi oggetti nello spazio e quant'altro. Però non si tratta forse dell'argomento principale, ossia se si intende far diventare lo spazio come il nostro oceano, i nostri oceani o meno, perché già lo spazio è pieno di rifiuti. Buona domanda anche questa. Allora, direi che qui potrebbero esserci vari che rispondono a varie domande. Quindi cerco di distribuirne alcune. Salto la guerra stellare perché aspetta l'ambasciatore. È roba sua. È roba sua. La multipolarità e la postura di India e Cina. Io l'avevo anche chiesto questo tema della postura alla Simonetta Di Pippo. Però direi, ecco, grazie ambasciatore per essere tornato. La prima domanda è tua, cioè questo tema di come le guerre stellari di Reagan adesso si applicano con la multipolarità, con i BRICS, che sono tanti e hanno posture diverse. Sul tema della diffusione delle tecnologie, la domanda di Luca sul piano militare, chiederò magari una riflessione sia a Frediano che a Marco Landbrück. Anche se poi annuncerò il prossimo salotto dell'intelligence sui combattenti potenziati col generale Battisti. Tratteremo questa questione, quindi dovrai tornare qui per parlare delle nuove, la diffusione delle tecnologie sul terreno che è stata materia dell'ultimo conflitto. Nucleare nello spazio e detriti, quindi rischio diciamo di creare un immondeziaio spaziale. Io lo lascio alla professoressa Di Pippo perché evidentemente sono due tematiche e diffusione di tecnologie sul piano militare è anche tema che magari Novitza ci può fare una riflessione. Veloci, tre minuti a testa, quattro minuti massimo e faccio il giro inverso, quindi Novitza sei il primo. Sulla prima domanda o in generale? Su quello allocato. Allora, a me piace diffusione di tecnologie sul piano militare e anche... Sì, ok. Dico qualcosa velocissimo, su diffusione di tecnologie è immediato. La startup che noi abbiamo valutato un anno fa, gli abbiamo dato due lire, perché quello che avevamo a disposizione in quel momento, sono andati negli Stati Uniti, hanno fatto un progetto che è applicato già. Quindi le tecnologie adesso si muovono molto veloce, cioè non posso entrare nei particolari, ma comunque stiamo parlando di una tecnologia italiana che è finito in un cluster di Orange County di accelerazione di aerospazio e difesa e sono già implementati, quindi si trovano già sul campo sia in Ucraina che in Israele, quindi sono molto veloci. Aggiungerei anche un altro punto, magari contrario, per esempio abbiamo tutti sentito della storia di Starlink a Roma, che è partito un rapporto, che Starlink aiuta i russi e tutto quanto proprio giusto nel momento quando Starlink ha offerto il servizio anche in Italia. Quindi ovviamente c'è anche un po', c'è qualcuno che sempre trova il modo di sputtanare lo sviluppo di tecnologia perché a quel punto faceva danno alla copertura di certe società in Italia, di internet broadband. Questo è sulla diffusione di tecnologia, quindi direi quasi immediato. Sulla tecnologia nucleare direi solo una cosa. Allora, sul spunto di Andrea che non gli dispiacerebbe di volare in mezz'ora a Los Angeles, beh, da dire che adesso un lancio di Starship costa 130 milioni di dollari. Quindi altro che 10.000 euro che si pagava per Concord, Parigi, New York, qua stiamo parlando di vabbè, mettiamo dentro pure 10, vabbè, facciamo 10 milioni a persona. Quindi per quello nucleare è essenziale e necessario perché solo così si riesce a ridurre lo size di uno Starship e di diminuire la quantità molto inquinante. Cioè già stiamo parlando della necessità di spostare Starship da Texas in Florida perché le leggi di Florida sull'inquinamento pesante sono contro le regole texane, quindi già siamo al limite, chiusura non di un occhio ma di due. Grottaglie, spazio porto di Grottaglie vicino a Taranto, non se ne va. Beh, ok, può funzionare su certe cose, però comunque c'è da pensare che da come parte il missile, guardando come gira la terra in Europa, che si tratta di sud di Spagna oppure Sardegna oppure Puglia, è molto limitato come deve partire perché il razzo deve partire con una traiettoria che comunque non incide dove c'è grossa popolazione. Quindi partendo da Cape Canaveral, ho vissuto lì quattro anni, veramente parte su sullo spazio dove non c'è neanche una persona se non qualche pescatore di tono. Grazie, Novica. Ti spunti anche per il futuro nostro lavoro. Marco, can you tell us about this technology on the military field? I mean, what are your thoughts to leave us? What are your thoughts to leave us? Can you repeat the question? I'm not sure that I understand. I'm not sure, yeah. Yeah, you do it because you... There was a question about these tools, ASAD tools, are available also on the ground to soldiers, as far as you know. Praticamente l'ho chiesto se soldati dispongono di armi potenzialmente anti-satellitari. Non penso, però vorrei sentirli. Did you hear me? Yes, if I understand the question correctly, you're asking about the point that it's nice to have all these systems in space, but if your soldiers on the ground do not have the access to the products of these systems, then it's still quite useless. Is this the correct question? Yes, two soldiers have these tools. Yeah, that's very true. And you basically see that in Ukraine, where quite recently there was news that the Russians are using Starlink terminals themselves, and one of the reasons that they do that is that they do not have a good communication network, and not a good satellite-based communication network anymore. So it's nice to have all these intelligence that you gather from satellites, but if you do not have the on-ground or satellite-based communication structure to bring that information to your troops and to their commanders, then you indeed have a problem. And Russia is very clearly experiencing that problem in Ukraine. And apparently, according to some news messages, it's turning to using Starlink to get this information to their own soldiers. And the same is a little bit true of navigation, where Russian soldiers are using American GPS systems because their own Russian systems are not so reliable anymore. And that underlines this problem. It's nice to have technologies, but you have to bring this information to the field as well. Very good. Torneremo su questo argomento. Lo dico per Luca perché avremo qui ospite il generale Battisti che ci parlerà di interazione tra strumenti satellitari, ottiche, droni e forze speciali sul terreno. Quindi in realtà le tecnologie dal conflitto a zero armeno, a questo conflitto e poi a quello israelo palestinese stanno facendo molto di interazione. Però stiamo parlando di aliquote di forze speciali, non della massa delle truppe sul terreno. Bene. Prego. Abbiamo ancora la Simonetta. Allora facciamo la professoressa di Pippo e poi conclude. Pippo ci dà le sue riflessioni su nucleare nello spazio e detriti, masse di detriti nelle orbite basse e orbite. Molto volentieri e tra l'altro ne approfitto parlando di detriti del fatto di di sottolineare il fatto che in realtà poco prima dei russi avevano fatto un NASA test anche gli indiani e che comunque a fine 2001 c'è stata una risoluzione delle Nazioni Unite che vieta questo tipo di esercizi, diciamo così. Il fatto che poi siano vietate dalla risoluzione, anche se tutti erano d'accordo, non significa necessariamente che poi non accade, però comunque un dato importante per la discussione. E l'altra cosa che non avevo che non avevo detto prima è che in realtà c'è questa eh attenzione diciamo così allo spazio da parte dei BRICS. Adesso i BRICS più, perché sapete che ci sono degli altri paesi che dal primo gennaio duemilaventiquattro fanno eh diciamo sono entrati nel gruppo eh vedremo che cosa succede perché chiaramente ci sono dei paesi come Cina e India che non necessariamente vanno eh d'accordissimo tra di loro all'interno dei BRICS quindi vedremo come come si sviluppa. Sulle due domande specifiche allora sulla sul nucleare ma diciamo che per sopravvivere eh sulla luna c'è bisogno di molta energia soprattutto se costruiremo dei grossi villaggi dove ci saranno esseri umani che vivono e lavorano sulla luna per un lungo periodo di tempo e gli americani stanno lavorando esattamente allo stesso tipo di concetto gli europei sono un pochino indietro quindi diciamo è abbastanza naturale che ciò accada non ci vedo niente di particolarmente critico. Su invece la questione dei detriti sappiamo che è un problema che effettivamente eh cresce. Eh nel duemilasette sono state approvate delle linee guida per la mitigazione della produzione di detriti ma è chiaro che da un lato mitigare eh è importante ma dall'altro bisogna anche in qualche modo ripulire eh da quello che era stato già depositato poi si tratta chiaramente di collisioni magari anche non volute di pezzi di eh lanciatori che rimangono in orbita di satelliti che finiscono il il carburante o meno che finivano il carburante quando queste regole non erano seguite e rimangono quindi poi incontrollati in orbita. Eh ci sono queste regole sono abbastanza precise anche se come dicevo sono soft law quindi eh in qualche modo non sono obbligatorie ma sono seguite praticamente da tutti eh tenete conto che per esempio quando negli Stati Uniti Elon Musk vuole lanciare i suoi Starlink che deve passare attraverso l'approvazione dell'autorità americana competente che se eh diciamo non c'è questa eh non sono previste queste queste diciamo questa capacità dei satelliti per esempio di rientrare nell'atmosfera a fine vita quindi se non c'è un rientro controllato eh e cose di questo tipo l'autorizzazione non viene data e tra l'altro per esempio la stessa autorità americana appena qualche mese fa ha combinato la prima eh multa spaziale da centocinquanta mila dollari quindi dal linea di principio diciamo la cifra era minima ma è comunque un chiaro segnale perché la società eh una società che si chiama Dish eh avrebbe dovuto portare il satellite a fine vita ad una certa attitudine quindi in un'orbita diciamo cimitero eh aveva non aveva carburante a sufficienza non è riuscita ad arrivare a quell'orbita quindi è rimasta più bassa e quindi la FCC che è la la diciamo l'autorità americana che ha responsabilità per questo gli ha combinato questa multa quindi è già un segnale nella giusta direzione. Ultimamente poi nel duemiladiciannove sono state approvate le linee guida per la sostenibilità che hanno parecchia diciamo hanno c'è parecchia carne al fuoco per quanto riguarda i detriti e eh e le Nazioni Unite stanno lavorando al secondo batch diciamo così di linea guida per la sostenibilità quindi non è vero che non si sta facendo magari si potrebbe fare più velocemente ma ma c'è molta carne al fuoco. Grazie professoressa grazie veramente e faremo una bella presentazione anche del tuo libro così potremo riprendere questa riflessione presto. Allora eh ambasciatore eh dal pubblico è arrivata una domanda che ricordava le romantiche guerre stellari di Reagan eh ma adesso non siamo più in un mondo bipolare ma siamo in un mondo multipolare abbiamo sentito le diverse posture eh indiana e cinese e e quindi di che futuro deterrenza o escalation? Eh Novice ci ha parlato del missilone distruggi satelliti ma diciamo siamo in un quadro di escalation per una guerra veramente mondiale o in un quadro di deterrenza? Beh eh la domanda che mi fai è terribile voglio dire perché se la risposta fosse forse quella diciamo la seconda alternativa eh credo che dovrebbero preoccuparci tutti quanti molto eh quella che io credo guardando perché guerre stellari sì all'epoca di Reagan era come dire un po' così un po' futurista poi c'era il sistema antisatellite vi ricordate no? Non è mai stato eh non è mai stato realizzato era quello era questo voleva dire le guerre stellari all'epoca no? Adesso siamo in una fase completamente diversa e nell'intervento iniziale abbiamo anche detto che siamo in un sistema opaco cioè siamo in un sistema internazionale non controllato non molto visibile nel senso che tutto quello che succede come dire le grandi potenze hanno tendenza a non a non dirlo e hanno anche la tendenza a non dire come si può controllare il sistema perché credo che il problema principale io parlo di comunità internazionale e questo credo sia la tua domanda in realtà il sistema internazionale è a rischio perché non esiste praticamente né un sistema internazionale delle Nazioni Unite o altro diciamo no? E una convenzione per quanto possa essere magari inosservata non esiste sullo spazio atmosferico ricordiamoci che lo spazio atmosferico rientra in quello che chiamano global commons eh global commons vuol dire che è di tutti e quindi una cosa che è di tutti e anche di nessuno eh quindi c'è certamente soprattutto una cosa credo credo che manchi avendo visto anch'io personalmente varie crisi eh crisi internazionali è la comunicazione tra gli autori tra fra gli attori gli attori che si devono parlare durante la guerra fredda la Nato l'Unione Sovietica e il Comecon pur rivali avevano un sistema di comunicazione avevano un sistema di comunicazione che era prepensato e concordato e addirittura c'era un glossario importantissimo che sembrano cretinate forse a chi non è uno specialista ma glossario vuol dire che si identifica il significato di ogni parola cosa vuol dire crisi cosa vuol dire avversario cosa vuol dire movimento eccetera eccetera concordato fra noi e i russi e è servito questo no con delle linee particolari io sono stato a Taiwan qualche mese fa ho fatto la domanda al Ministero della Difesa ma voi vi parlate con quelli di Pechino la risposta è stata no e io mi ho detto guardate che c'è un rischio c'è bravo c'è un rischio enorme in questo perché le cose non dobbiamo credere mai eh alla razionalità degli esseri umani è un grandissimo errore questo tutta la storia ci dimostra che gli esseri umani non sono mai completamente razionali e le cose avvengono casualmente avvengono per errore avvengono per ideologie arrivano per ragioni religiose arrivano per cose che la persona normale non riesce a controllare e allora il fatto che non ci si parli è terribile se prendiamo il caso di Taiwan e finisco qui in realtà un jet come dire attraversa lo stretto di Formosa in 30 secondi parliamo di 100 chilometri quindi come dire credo che adesso ho letto che dopo l'incontro di eh del leader cinese con Biden in California in aprile riprenderanno i contatti militari fra cinesi e americani quindi sto dando la risposta in questa maniera quindi voglio dire il sistema non è controllato ehm lo spazio è come dire un global commons e e ha una terribile bisogno di regolamentazione grazie prego novezza perché poi ecco ecco allora hm lo spazio e quindi comunque qua parliamo di operazione satellitare si condivide nel uplink e nel downlink dove dove uplink sono lanciatori cioè tanti soldi tanto capex del genere lanciatori esplorazione space mining marte luna comunque vabbè portare qualcosa su mentre downlink è molto più leggero sono le applicazioni tipo osservazione terra comunicazione quindi maggior parte dei soldi adesso arriva da downlink mentre maggior parte di investimenti va verso l'applink eh in passato allora oltre la bipolarità tra gli Stati Uniti e la Russia che ovviamente si potevano permettere tutto quanto tanti paesi poi eh Italia come terza usavano i servizi di downlink cioè in realtà comunicazioni del genere adesso vediamo invece che tantissimi paesi mettono tanti soldi anche nell'applink che eh che capex intensi cioè vediamo ovviamente comunità europea che abbiamo discusso Stati Uniti eh eh Russia Cina abbiamo anche Giappone Giappone ha approvato un mese e mezzo fa di arrivare sulla Luna sì si sono schiantati mi dispiace eh un mese prima di loro anche israeliani gli israeliani sono sono arrivati con un prodotto privato cioè è stato un prodotto privato da una associazione tipo 20 associati non sto scherzando letteralmente sono arrivati a raccogliere i soldi da da amici eh e invece volevo aggiungere che magari meno noto eh Emirati Arabi diventano una potenza eh e anche Arabia Saudita per il conto suo cioè non è che lo fanno insieme eh Emirati Arabi e e e Arabia Saudita diventano una potenza stiamo parlando anche con i lanciatori anche con appling grazie sarà un argomento interessante per il futuro questo dei vari paesi allora io chiudo velocemente chiudo velocemente eh riprendendo dalla domanda di Luca ehm io non so perché non sono stato sul terreno che tipo di attrezzature hanno i russi o gli americani so che però gli americani hanno le space forces i russi hanno anche loro le forze aerospaziali cinesi qualche cosa del genere quindi delle cose dedicate molto costose molto molto grandi però l'aspetto che a me più interessa in tutta questa vicenda che noi abbiamo discusso e che io eh che è un po' il carne del mio libro è che tutte queste tecnologie che fino a quindici anni fa erano disponibili soltanto per gli stati e eh per i militari per lo spionaggio adesso con i voli low cost di Elon Musk con molte società che hanno mandato il che hanno mandato satelliti quindi hanno abbassato il costo dei servizi sono disponibili a tutti noi cioè io ho un abbonamento che costa trecento euro col quale posso e io ripeto ho una laurea umanistica non sono laureato in fisico eccetera eccetera posso scaricare delle foto satellitari quindi al mattino eh io quando mi sveglio c'ho una serie di eh persone che seguo su Twitter che fanno gli analisti cioè scaricano delle foto e controllano il campo di battaglia in Icraina o eh in Israele già meno perché più piccola è un altro è un'altra situazione cioè c'è una sorta di democratizzazione di questa tecnologia che costa sempre meno quindi più persone lo possono fare è diventata più semplice e e questo è un trend è un trend cioè è il è una tecnologia diventata alla portata di tutti e questa delle implicazioni incredibili perché quello che fino a vent'anni fa potevano fare soltanto i militari cioè avere delle foto satellitari della Corea o dell'Ucraina adesso lo può fare chiunque e questo è è è un salto quantico che è uno che buona parte del del dell'argomentazione del mio libro cioè la democratizzazione e la larga diffusione di questa tecnologia grazie Frediano abbiamo concluso ricordo che c'è un aperitivo ad aprile nuovo salotto dell'intelligence presenteremo un nuovo numero di Gnosis la rivista dell'intelligence con due eh diciamo contributors d'eccezione il professor Giorgio Cella sul tema del eh spiritualismo slavo applicato a questa guerra russo-ucraina da tutte e due le parti quindi anche spiritualismo ed esoterismo slavo e il generale Battisti sul tema eh del eh combattente del soldato potenziato cioè del transumanesimo sul terreno quindi tante cose ottiche biomeccanica e vari ed eventuali grazie